Ehi la, ehi la, bentornati su Broken Stories di Flavio Truisi, scrittore e ghostwriter. Come sapete qui parliamo di narrazioni avvincenti e immaginifiche. Narrazioni non vuol dire soltanto pagina stampata, non soltanto parole scritte. Narrazioni vuol dire scrivere per raccontare una storia. E c'è una categoria di professionisti della scrittura che arrivano... Ah no, devo dire che io li invidio molto, hanno anche una bella fortuna. Se tutto va bene arrivano, bam, con una sola cannonata a un sacco di persone. Sono gli sceneggiatori cinematografici. Ultimamente, se seguite questo canale, lo sapete perché siete matti come me, sapete che è uscito un film italiano su Netflix dell'orrore che sta facendo sfaceli. E si chiama, con titolo italianissimo, A Classic Horror Story. Delle persone sono dietro queste opere e alcune di queste persone sono proprio quelle che scrivono quello che poi vedete trasformato in immagini. Sono gli sceneggiatori. Oggi qui ce ne sono con me due. Due sceneggiatori di quest'opera che abbiamo visto tutti, ci è piaciuta molto, ma se non l'avete vista, non andate avanti con questo video, perché qui faremo spoiler a manetta. Qui parleremo dei contenuti, cioè di quello che succede nella storia. Io farò domande veramente insidiose su tutti i particolari che mi vengono in mente e se non avete visto il film, tornate qui dopo averlo visto, ok? Siete avvisatissimi. Adesso io vi presento questi due sceneggiatori che sono Lucio Besana e Milo Tissone, ed eccoli qua. Ora arrivano e ve li mostro. Eccoli. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. Beh, allora, benvenuti su Broken Stories. Grazie infinitamente di essere qui. Per Lucio è anche la seconda volta, quindi moltiplico il ringraziamento. Per Milo è la prima volta. Io sono emozionato perché questo film mi è piaciuto. Lo aspettavo veramente con ansia. Sono un appassionato di cinema horror, ma se il cinema è prima di tutto di cinema, quindi che sia horror o non horror, il film deve essere buono. Questo film, ieri, risultava essere il secondo più visto sulla piattaforma Netflix, ma non in Italia, nel mondo. Ok? Quindi, prima domanda a entrambi. Come vi sentite in questo momento? Prima Lucio, poi Milo, per favore. Via. Allora, io sono quello che rovina la festa di solito in queste cose. Io sono contento di aver fatto un buon lavoro perché il film oramai sta iniziando a muoversi da solo. Si sta diffondendo oramai più o meno autonomamente. E sono contento, sono naturalmente contentissimo che sta arrivando a un sacco di persone che tante di queste persone lo stanno capendo e apprezzando. Io non ho ancora, però devo essere onesto, io non ho ancora realizzato cosa vuol dire avere un'esposizione mondiale. Nel senso che queste sono le prime 24 ore. Io mi sento ancora uno sceneggiatore come ero prima. Non so se questo cambierà qualcosa per noi. Ok. Rifarmi questa domanda tra un paio di settimane può darsi che ti dia una risposta diversa, ecco. Va bene. Milo, tu che ci dici? Ma io ho qualche problema con l'esposizione in generale, quindi io sono un po' spaventato, se devo essere totalmente onesto. Sono un po' spaventato, cioè naturalmente sono contento, cioè non è che voglio fare la retorica di quello ah, non me l'aspettavo. Comunque un film è Netflix, che Netflix ha una potenza di fuoco che nota bene a tutti, quindi è normale che abbia avuto una diffusione. Francamente sono rimasto sorpreso da questo secondo posto e io questo non me l'aspettavo. Mi aspettavo che arrivasse a tantissimi, sapevo che era distribuito in tanti paesi, ma non mi aspettavo un podio così alto. Però la sensazione che io vivo sulla mia pelle è un po' di preoccupazione, devo essere sincero, però anche un po' fina a se stessa, cioè tipo, non lo so, mi sento un po' nudo, anche se siamo tanti autori dietro, c'ho questa sensazione qua. Anche se poi gli sceneggiatori sono come nelle rock band, sono un po' i batteristi, quelli che stanno molto dietro. Il bassista proprio anche. Sì, sono fondamentali, perché se no la musica non va avanti, però nessuno poi ci fa tanto caso, giusto? Certo. Giusto. Eh sì, succede. I vostri rispettivi ruoli, in breve, per favore, in quest'opera. Vi faccio sempre rispondere nello stesso ordine, se siete d'accordo. Certo. I vostri rispettivi ruoli. Allora, io sono sceneggiatore principale, sono sul film dalla sua nascita, quindi dal 2013, ho scritto le prime stesure della sceneggiatura insieme a David Bellini, che purtroppo non è più tra noi, e ho supervisionato le riscritture, tutte le riscritture fatte dopo che Paolo Stripoli è sommetrato in regia, portandosi Milo, nella primavera del 2019. Non capito. E quindi Milo, tu sei arrivato dopo. Io sono entrato in corsa in un momento che non era nemmeno semplice, perché comunque era un film, il cui soggetto era di Roberto, poi insieme a Lucio e David iniziarono a scrivere, io, Davide, tanto per dirlo, perché è giusto dirlo, non ho mai avuto il piacere di conoscerlo, di incontrarlo. Sono arrivato dopo. Sono arrivato dopo e sono stato portato da Paolo, perché secondo me è una cosa interessante anche da dire, è che Lucio, che ha collaborato, come molti sanno, con Roberto su The Nest, è uno sceneggiatore profondamente legato a Roberto, anche, come io lo sono profondamente legato a Paolo, quindi c'è stata una sorta di matrimonio creativo, tra le due parti, ognuno ha portato la sua dote, in qualche misura, e io sono subentrato quindi in corsa, perché Paolo pensava che potessi dare un contributo per via di quelli che sono i miei interessi nella vita, io mi sono occupato in maniera consistente della ricerca folklorica che c'è all'interno del film, poi chi ha visto il film sa che è una cosa che, poi ne parleremo, è determinante, ma non lo è fino in fondo, comunque ho curato tutto quell'aspetto, e poi niente, abbiamo partecipato, poi in realtà tutti abbiamo scritto tutto alla fine. Sentite, io ora in poi vi propongo però, potreste parlare in americano, perché mi fa strano parlare con degli sceneggiatori di un film horror in italiano, cioè questa cosa, andiamo un attimo su questo punto, intanto se vi foste, no, non vi siete collegati adesso perché non siamo in live, ma se avete fatto un salto fino a questo punto, vi ricordo che adesso gli spoiler abbonderanno sempre, ogni tanto lo dico, ok? Allora, voi siete italiani e vi siete messi in testa di scrivere un horror, ma non solo, anche Roberto De Feo e Paolo Stripoli, insomma, si sono buttati in questa impresa di fare un horror italiano, come dicevo, con un titolo però internazionale, questo è un primo indizio, secondo me, di un approccio molto volpino, molto astuto, per dire intelligente, secondo me, ma ci sono state, è strano, no, il fatto, a voi la parola, è strano che un film italiano che fa parlare di sé sia proprio un horror, perché? Perché? Ditelo voi perché. Allora, penso che la risposta più onesta che io posso dare, magari Milo, a degli insight diversi dai miei, è che noi abbiamo scritto il film perché sentivamo che avrebbe avuto un appeal internazionale, e eravamo, credevamo in quello che scrivevamo, perché avessimo ragione, non te lo so dire, perché questo film si è arrivato a diventare il secondo film più visto al mondo, su Netflix, potrebbero essere questioni di promozione, potrebbero essere questioni di qualità del film, potrebbero essere questioni di ricezione del pubblico, forse perché il pubblico voleva qualcosa di quel tipo, forse perché l'estetica che trappelava dal trailer, dava l'impressione di qualcosa di estremamente ricco e interessante, non ti so dire perché siamo arrivati così lontano, e ci siamo diffusi così tanto, perché questo film sta incontrando successo che ha, salvo che l'unica cosa che possiamo dire per quanto riguarda il gruppo di scrittura, di regia e tutte le maestranze coinvolte nel film, è che abbiamo lavorato al meglio, abbiamo cercato di fare del nostro meglio, e evidentemente anche questo ha ripagato. Da spettatore devo dire che sono d'accordo, perché il film ha veramente un afflato internazionale, le immagini, la qualità della storia, come procede, il suo ritmo, la recitazione, insomma tutto l'insieme, e sì, è ambientato in Italia, ma potrebbe essere girato e scritto da professionisti di qualsiasi nazionalità, e questo non lo voglio dire a detrimento dell'intervento di Milo, adesso entriamo nel merito, ma è proprio l'impressione mia che sia stato fatto un film italiano, glocal, cioè è un po' l'Italia, ma è anche un po' non l'Italia, c'è questa possibilità forse per i narratori, e quindi anche per i cineasti, che forse si sta materializzando, non so se siete d'accordo, ma anche per i musicisti, notate il caso Maneschi, scusate se vi chiamo in causa, magari qualcuno che non c'entra poco, ma questa cosa che l'internazionalità non è più forse soltanto un'aspirazione, ma è proprio uno stato, uno status mentale per i nuovi autori, cioè siamo tutti dentro internet, siamo nel mondo ogni giorno, non abbiamo più solo una percezione parziale delle cose, abbiamo un modo forse più globale di vedere così, forse anche come scrittori, voi avete un po' questo respiro, so che di luce ho letto anche i racconti, mi sembra che avere questo respiro, non so se anche Milo, Milo tu sei d'accordo, c'è questo modo nuovo di essere italiani, ma non solo italiani? Io voglio essere completamente sincero, penso che questa questione sia estremamente volatile, penso che cambi, penso che però la cosa che noi abbiamo forte sono per fortuna e purtroppo i brand che possediamo, inoltre noi abbiamo un bacino culturale che è fatto di tante cose diverse, che è fatto di politica, è fatto di cronaca, di cronaca nera, è fatto di storia che, non dico che è unica al mondo perché non è vero, però è incredibile, è veramente incredibile, attingere a questo è sicuramente un privilegio che noi abbiamo in quanto italiani, ma il renderlo trasversale e accessibile, in maniera appunto diversificata a un pubblico universale, è una cosa totalmente differente, ed è una cosa molto complicata. noi nel nostro film abbiamo avuto in qualche modo, abbiamo seguito una facilitazione che è stata quella appunto di giocare con gli stereotipi, che lo stereotipo è la cosa più riconoscibile che ci sia, e rendere una cosa, e attraverso una cosa estremamente riconoscibile, canalizzare qualcosa di un pochettino più complesso e profondo, perché poi, per esempio, Osso Mastorso e Carcagnoso sono un casino di roba, cioè Osso Mastorso e Carcagnoso sono il caos, se uno va veramente a studiare quello che sono, non voglio entrare subito troppo nei dettagli, però era proprio per dire questo, che secondo me è una roba che può funzionare, questo, il concetto di glocal, però io non mi ci affiderei mai, in maniera esclusiva, perché secondo me dipende molto dal momento, dal momento storico, eccetera. Ah, però, e concludo, spero che a Classico Horror Story possa però porre luce su un meccanismo glocal che può essere efficace. Assolutamente. Beh, allora, detto, ragionando fra noi che siamo appassionati anche di come si costruiscono le storie, no? Io ho letto un saggio che si chiama, non mi chiedete l'autore per carità, ma è disponibile, si trova in libreria, che si chiama Come creare successi. ed è la riflessione basata su molte ricerche, anche su dati statistici, di questo ricercatore, che alla fine del discorso cosa dice? I successi non si basano sull'innovazione stravolgente, ma sulla capacità di usare su un impianto conosciuto, di innestare su un impianto di qualcosa che è noto al grande pubblico, una piccola novità. Basta una piccola novità. Cioè prendi una cosa, la riproduci così com'è, ma poi cambi un elemento. Pensando al vostro film, un po', mi sembra che questo possa tornare, perché veramente è il classic horror story. Prende tutti gli archetipi, perfino gli stereotipi, del cinema horror. Per esempio, beh, il fatto che c'è la casa, la casa poi insomma in Italia, Evil Dead, Evil Dead in America, ma da noi è la casa, santo Dio. Poi ci sono i boschi, poi ci sono i classici sadici senza volto. C'è il gruppo dei protagonisti, sembrano presi proprio da una quantità di film, messi lì, tutti dentro il vostro camper. E avete veramente giocato con tutto quello che sapevamo già dell'horror e questo secondo me per il grande pubblico è molto consolatorio, molto confortante, è come entrare in un posto che già conosci, non ti senti a disagio, conosci già tutti. E poi lì l'innovazione di mettere appunto sia gli elementi, se volete appunto etnografici quasi, si potrebbe dire, quindi osso, mastrosso, carcagnosso e ci arriviamo, sia tutta poi il discorso metacinematografico. Questa cosa qui, voi l'avete concepita a tavolino o è venuta fuori perché la storia vi ha portato? Allora, bisognerebbe chiedere a Roberto perché il soggetto è suo. Il soggetto iniziale è di Roberto e penso che abbia fatto un ragionamento di questo tipo nella prima concezione del film. Sicuramente però noi appunto lavoriamo per... Noi una delle cose che ci confortava e che ci faceva credere nel film era che comunque il film aggiungeva qualcosa alla conversazione continuando una conversazione già esistente. E continuandola secondo noi, almeno mentre lo scrivevamo in maniera brillante, proprio andando a centrare alcune questioni riguardo l'horror italiano e non chi è fuori dalla conversazione da tanto tempo ormai. Altro che. Altro che. C'è una sensazione nel film. Adesso vi porto... Che io ho avuto anche leggendo per esempio Spettri della mia vita di Mark Fisher che fa delle belle riflessioni sui futuri che non sono mai nati ma che abbiamo avuto la sensazione che fossero possibili e poi non sono continuati. Il futuro del cinema horror italiano a un certo punto si è interrotto. Noi avevamo una grande scuola fatta di alcuni autori straordinari e anche di una pletora di Scalzacani che però comunque facevano, ok? Producevano quei film, magari non erano delle grandi produzioni ma poi venivano esportati magari nei mercati minori, in Sud America, ma esportati, viaggiavano. Poi quel futuro lì del cinema italiano è morto. E c'è un lasso dal anni Ottanta, forse anche fine anni Ottanta, fino a oggi di un silenzio tombale. Ecco, cerco di spiegarmi. Il vostro film, in qualche senso, mi dà, in qualche modo, mi dà questa sensazione un po' di raccontare non solo qual è il possibile futuro adesso del cinema italiano, perché molti ci sperano, no? Vi vedono come una possibilità di rilancio, speriamo. Ma anche, mi sembra, un film che avrebbe potuto uscire se quel futuro precedente non fosse morto. Cioè, questa interruzione è come se non ci fosse stata nel vostro film. Siete figli di quel cinema lì e di quale altro? Ma posso dire una cosa, posso dire una cosa, Lucio? Prima abbiamo parlato di Glocal, per spiegarlo anche a chi non conosce questo termine, significa semplicemente partire da un elemento locale, qualunque esso sia, per renderlo globale. Se noi guardiamo al cinema, per esempio, io penso a Lucio Fulci, no? Penso al di là, tu vivrai nel terrore. Mi si permette questo gioco di parole, ma non è un Glocal, ma è un Elo Glocal. Cioè, bisognerebbe invertire le due parti. Perché in quel caso, per esempio, il film ambientato in America, con attori che sono americani, ma sono italiani, c'è un'inversione, c'è il globale, l'universale, è nota a tutti. È tutto riconoscibile sotto l'egida dell'americano, in qualche modo. Io penso anche a una serie televisiva Rai, particolarissima, di genere fantascientifico, a cui io sono legato, con tutti i difetti che ha, che si chiama l'onda verde, tanto si trova anche su YouTube, fino a qualche anno fa, che è tutto parlato, cioè recitato in italiano, con attori italiani, ma ambientato in America, con attori che hanno nomi americani. Questa cosa era totalmente condivisa, era totalmente accettata. Adesso noi la guarderemo con scetticismo oggi, se ci capitasse di avere un prodotto simile davanti, ma cosa stanno facendo? Perché siamo molto più disincantati rispetto a questo tipo di tendenza. però era anche quella roba là che ci permetteva di arrivare ovunque. Anche qua è un futuro interrotto. Scusami, ci interrompo per dire questa cosa. È un futuro interrotto, non è andato avanti quel filone, ma aveva dignità di esistere come qualsiasi altra cosa, no? Sì, io ti dico la verità. Cioè, adesso, se dovessi vedere un film così, io sarei probabilmente il primo a guardarlo con sospetto. Sarei comunque il primo. Però devo riflettere che da un punto di vista anche produttivo, smaccatamente produttivo, era una roba che ci permetteva di arrivare ovunque. Di arrivare ovunque e così per bava anche. Cioè, è un discorso che secondo me va affrontato perché è molto interessante questo. Assolutamente. Assolutamente. Ok, sì. È per questo che avete anche astutamente inserito un personaggio americano? Due personaggi angloci. Due, anche lei. Beh, ma lei è americana. Non mi ricordo, lei è anche americana. Lei vive in America ma è originaria di Odessa. Ah, infatti, infatti, mi sembrava. L'altro è proprio un po' anche lo sbruffone americano per certi versi. Con tutto il rispetto per i nostri carissimi amici americani. Anche se è di origine inglese, sì. Sì, sì, sì. È un po' lo sbruffone, quello, insomma, il Prince Hemsworth di quella casa nel bosco. Esatto. E quindi avete messo anche... Cioè, è un gruppo di personaggi che hanno... Anche loro sono internazionali, giusto? Anche questo era... Voi, Milo? No, no, sì. No, ma poi è anche interessante, per esempio, vedere lo stereotipo dell'americano festaiolo, tipo It's a beer o'clock, no? Quella roba là. che è... Però, nel momento in cui lui e la fidanzata parla con Matilda Lutz, la protagonista, e le dice in realtà guarda che lui è inglese, cioè è una piccola frattura di quello stereotipo. Lentamente si va comunque a destrutturare e comunque tutti i personaggi, non tutti, ma quasi tutti i personaggi a un determinato punto del film rivelano il loro background, la loro umanità, a fanno capire che le motivazioni di partenza scontatissime, banali, sto andando dalla mia famiglia, sto andando per le vacanze, il matrimonio, cioè le... la... Diciamo la meta iniziale piano piano va a cambiare, va a cambiare. E questa cosa è interessante, naturalmente noi abbiamo potuto fare un approfondimento di questa decostruzione, di questa distruzione dello stereotipo, non approfonditissimo, perché comunque la dinamica del film di genere ti vincola all'interno di determinati tempi e di determinate strutture che impediscono, a meno che non si faccia un film completamente diverso, ma questa non era la nostra intenzione, di fare un approfondimento psicologico sui personaggi molto, molto più, diciamo, affrontato con perizia, con maggiore perizia, ecco, quindi abbiamo giocato su questo, senz'altro. C'è anche da dire una cosa che è interessante riguardo la... riguardo la tua osservazione, Flavio, ed è che la prima versione del film, la prima versione della sceneggiatura era stata fatta per essere come The Nest filmata in inglese. Quindi tutta la prima versione della sceneggiatura, tutti i dialoghi che avevo scritto per la prima stesura che aveva scritto David, erano scritti con l'orecchio all'inglese, come le prime versioni di dialoghi di The Nest. e quando abbiamo riscritto la sceneggiatura, perché quando è subentrato Paolo Strippoli abbiamo riscritto da capo, abbiamo riscritto dalla pagina bianca, ci è sembrato giusto a tutti mantenere un'internazionalità all'interno della sceneggiatura, perché comunque per me oggi è strano vedere un film così senza un aggancio all'internazionalità, senza vedere qualcuno che sta fuori dall'Italia, che sta fuori dal locale. Sì. A proposito della questione di genere, sì, questo è un film di genere, ma proprio programmaticamente, lo dice fin dal titolo, e forse anche per questo dal momento che viene distribuito in una piattaforma internazionale come Netflix, domanda, secondo voi, so che non siete addentro a tutto in quanto sceneggiatori, voi siete quelli che stanno chiusi nella stanza a scrivere, chiariamo, però poi captate anche il resto, forse è proprio questa sua, è proprio per il fatto che è uscito su Netflix che è stato più facile proporre e realizzare un prodotto cinematografico di genere, perché in Italia ho sentito anche l'intervista fatta ai registi De Feo e Stripoli al Festival di Taormina dove hanno vinto tra l'altro per la migliore regia questo soggetto e questa sceneggiatura è rimbalzata per produttori per un bel po' e la risposta era bello bello però perché non ci fai una bella commedia che quella invece sicuramente va alla grande ecco poi invece su Netflix ok facciamo immagino sia stato anche lì insomma le complicazioni del caso ma poi alla fine ok facciamola ecco i soldi questo essere di genere è anche questo forse un elemento di internazionalità perché essere di genere in Italia e questa è la domanda è più complicato ancora? la risposta breve la sensazione che ho la risposta breve è sì in Italia è ancora complicato se non ci fosse stata Netflix che garantiva un'esposizione mondiale al film in 190 paesi comunque io penso che questo film non l'avremmo mai visto non l'avremmo mai girato con tutta la buona volontà che poteva avere Colorado nel proporlo perché hanno veramente fatto il giro delle sette chiese per piazzare il film con altre case di produzioni per trovare finanziamenti e tutto quanto in Italia è rimasta lettera morta la sceneggiatura mentre invece Netflix quando l'ha letta ha immediatamente espresso entusiasmo ma chi la legge in Netflix è un qualcuno dello staff in Italia o va direttamente all'estero nella sede centrale come funziona? rivelateci qualche retroscena ne conoscessimo mezzo di retroscena in realtà noi non sappiamo noi come sceneggiatori non abbiamo una conoscenza diretta di quello che succede dietro le quinte della produzione noi sappiamo che a un certo punto ci hanno chiamati ci hanno detto c'è la possibilità di fare il film bisogna riscrivere la sceneggiatura o bisogna fare una riunione con Netflix perché si incrocino le note mi ricordo la prima riunione che facciamo con Netflix fu divertente perché io ero obbligato a partecipare perché io parlavo inglese però lavoravo al cinema dove lavoravo come proiezionista quindi presi la prima riunione dalla riserva di popcorn del cinema spiegami scusa cosa vuol dire? c'era il locale dove tenevamo i popcorn ecco io ho preso la chiamata da quel locale lì circondato da scatoloni da scale ecco questa è la vita degli scrittori ragazzi questa è la vita degli scrittori d'ora in poi vi auguro una vita un po' più confortevole però adesso adesso Lucio però però ho fatto le corna perché sono italiano sia chiaro no però volevo dire che comunque adesso Lucio non sta più in un cinema scrive e scrive anche la sua narrativa quindi io trovo questo aneddoto bellissimo ma chiuso nella malinconia di un tempo passato sì assolutamente poi qui abbiamo anche recensito la sua raccolta di racconti quindi chi ci segue sa cosa scrive Lucio e come questo è anche un meta film e attraverso il suo essere meta poi secondo me affonda la lama anche in alcuni temi sociali forti ma più di uno cioè per esempio e questo mi piace perché l'horror torna a essere anche un filtro un filtro della nostra società di quello che viviamo viviamo noi per esempio la protagonista deve andare spoilerissimo praticamente ad abortire perché sta lavorando per una grande compagnia e non si può permettere di avere un figlio poi c'è un uno studente di cinema se non sbaglio al Dams insomma uno che vuole fare cinema e non ci riesce perché in Italia è complicato fare film perché ti mettono tutti i bastoni fra le ruole in Italia è una merda e quindi anche lui c'è i suoi problemi abbiamo un medico altro spoiler che insomma anche lui ha una crisi lavorativa grossa insomma il lavoro non va bene a nessuno tranne a ma neanche a questa ragazza ragazza bionda di Odessa Sofia Sofia cosa fa fa dei gioiellini del cacchio ha una start up ma i gioielli in 3D dai una poveraccia pure lei sono tutti un po' lì che si barcamano e devono fare carpooling per andare in un posto perché non hanno neanche i soldi per questo questa è l'Italia io l'ho vista è perfetta secondo me questo è come viviamo adesso siamo tutti fighissimi però poi dobbiamo fare carpooling per andare dal punto A al punto B vi siete proprio divertiti a inserire questo questo elemento lo avete voluto fortemente o è successo perché siete anche voi così ma penso avessimo cerchiato penso avessimo cerchiato di rendere semplicemente umani i personaggi e di di renderli più più tridimensionali che non semplicemente degli stereotipi e quindi tutte queste backstory le abbiamo aggiunte per quel motivo e per cercare di creare delle dinamiche interessanti tra loro non c'è stato un ragionamento almeno da parte mia io non ho sentito un ragionamento di critica sociale lì dietro è interessante che se oggi racconti una vita per come la percepisci tu diventi immediatamente una critica sociale stiamo messi veramente male insomma assolutamente sì una persona normale fa un film di Ken Loach oggi ma è vero è vero sono personaggi di Ken Loach in una storia in un classico film horror ma secondo me questo aggiunge un bello spessore poi non importa che lo spettatore per forza vada lì a fare l'analisi però sicuramente aggiunge uno spessore notevole alla caratterizzazione poi c'è l'estetica l'estetica che è anche beh a parte le situazioni facciamo l'estetica perché voi non vi siete occupati della fotografia però anche le situazioni sono prese proprio da film anni 70 anni 80 ecco quindi anche lì che Mark Fisher che io adoro fondamentalmente ci dice che noi non siamo ancora entrati nel ventunesimo secolo nelle arti siamo ancora nel ventesimo secolo e ancora usiamo quegli stilemi ancora raccontiamo quelle storie non abbiamo ancora trovato il modo di raccontare il ventunesimo secolo da lì anche un po' il nostro disottentamento al di là di questa cosa un po' angosciante che ne pensate voi cioè per avere successo per fare dei prodotti anche che arrivino al grande pubblico dobbiamo ancora dargli le cose che conoscono dobbiamo non è una domanda è così è una riflessione che vi porgo beh guarda io ti dico soltanto che la questione dello scavallare un secolo ha a che fare con la rottura di un paradigma con la rottura di un paradigma culturale artistico se nel mondo non siamo ancora entrati nel ventunesimo secolo io il sospetto che in Italia non sia nemmeno nel ventesimo probabilmente quindi mi viene da dire che molto probabilmente quello che a noi può sembrare qualcosa di completamente innovativo probabilmente andando al di là dell'oceano poi non lo è già più effettivamente e io penso tutta la tradizione per esempio dei film di Jordan Peele no? di quel cinema lì noi non ci siamo inventati niente e io penso che Lucio sia d'accordo con me come da un punto di vista di onestà intellettuale non abbiamo fatto un film che ha diciamo stravolto la vita culturale del mondo no cioè abbiamo fatto un'operazione che a noi sembrava sensata ma che voleva in qualche modo andare proprio a parlare di quello che dicevi tu cioè voleva far riflettere su un cambiamento che non è avvenuto e che dobbiamo fare avvenire e questo secondo me è la cosa più importante poi all'interno del film la cosa che mi rende più orgoglioso di aver partecipato alla scrittura di questo film è il fatto che questo film nel bene o nel male abbia fatto del rumore e questa è la cosa che mi fa piacere sì sembra quasi che il messaggio sia allora io sono molto autoironico e quindi ironico anche con voi che ammiro tantissimo ma certo io veramente me lo porto nel cuore questo film ma sembra quasi che noi il messaggio forte che stiamo dando al resto del mondo sia non siamo i primi della classe nel fare i film horror però cazzo li sappiamo fare punto possiamo farli come chiunque altro siamo capaci sveglia noi in Italia se ci date la possibilità questa generazione tra l'altro ha una gran voglia di fare Roberto De Feo e Paolo Stripoli a Tormina hanno detto una cosa straordinaria hanno detto per noi l'horror è una chiesa sì anche voi la vedete così sì cos'è l'horror scrivere horror per voi per me parlo per me stesso poi passo la domanda a Milo per me è una chiesa è una cosa è il fare paura spaventare disturbare questo atto profondamente maleducato che fanno i film dell'orrore è una cosa che per me ha un enorme senso come ce l'hanno i simboli che usiamo per farlo non è un genere che scegli secondo me l'horror non è un genere che scegli prima di metterti a scrivere è veramente un paese che abiti quindi sono d'accordo con loro è una chiesa bellissima io diciamo che io sono un cioè non so se posso dire la stessa cosa con la stessa credibilità e convinzione nel senso che io adoro il cinema horror e amo tantissimo scriverlo e tentare di farlo io ho un'altra chiesa mia personale che è la fantascienza a cui sono legatissimo un determinato tipo molto specifico di fantascienza che io amo da morire però l'horror diciamo che è la mia moschea in qualche modo posso dire questo ok 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 sì c'è questa idea tra l'altro che l'horror sia un genere costituito stabilito oppure come sempre più ultimamente si va si tende a pensare l'horror sia un modo letterario un modo di raccontare storie cioè se seguo il ragionamento di Lucio tu non parti vabbè se devi scrivere un film horror è chiaro che sei tutto deciso ma tu non come autore spesso non parti dall'idea che adesso scriverai un horror ma racconti una storia e poi la tinta horror arriva cioè l'emozione horror ti pervade e tu la storia in bocca con la direzione lì ti succede questo Lucio quando scrivi? ma sì la sia come sceneggiatore che come scrittore anche se come sceneggiatore poi il processo richiede un numero maggiore di compromessi quello che tento di fare è di visualizzare e di raccontare stati d'animo e stati d'animo una visione del mondo non una visione del mondo necessariamente accademica o politica ma una visione viscerale una visione un sentimento del mondo ecco che non vuole avere nessuna che non ha nessuna nessuna pretesa di esattezza storica ma una è l'horror e quindi quando io scrivo quando si inizia a scrivere certi simboli vengono naturali perché sono quelli che fanno passare questo tipo di emozione più in maniera più potente ok e e poi questa cosa viene incasellata nell'horror naturalmente quando scrivi tu sei comunque consapevole che stai lavorando in una direzione che può essere riconosciuta come quella lì e quindi comunque ti interfaccii col genere ti interfaccii con quello che è già stato fatto in quella maniera perché appunto siamo parte di una conversazione e devi comunque riferirti a quello che c'è stato prima sì per costruire qualcosa di nuovo ecco questo per me veniamo ai simboli allora in questo film spoiler lo dico a tutti bellissimo perché poi questo qua è un film veramente complesso perché è scivolosissimo esatto esatto allora ribadiamo se non avete visto il film fermatevi qui andate a vedere il film e tornate ok allora in questo film l'orrore un orrore tipico italiano viene chiamato in causa oh finalmente parliamo di questa cacchio di schifezza che si chiama mafia che si chiama andrangheta che si chiama camorra si può chiamare anche sacca con una unita oh baciamo sempre le mani mi raccomando però è una schifezza e fa veramente paura fa veramente paura è una cosa atroce in questo film finalmente diventa si viene trasformata iconizzata diventa un simbolo diventa tre figure iconiche si trasforma in tre figure iconiche che solo a guardarle diviene il gelo perché queste maschere sono bellissime perché perché c'è tutta l'atmosfera folk horror insomma sapete benissimo di cosa parla e quindi arrivano osso mastrosso e carcagnosso la prima volta che ho letto questi nomi non è stato attraverso il vostro lavoro ma qui in questo libro che stavo consultando per cose mie e che si Nicola Gratteri non so se mi spiego e Antonio Nicasio quindi un grande esperto di cose mafiose un magistrato importantissimo che la conosce benissimo e che in questa storia segreta dell'andrangheta racconta appunto che osso mastrosso e carcagnosso sono delle figure mitiche su cui un po' l'immaginario dei mafiosi si basa anche se secondo me anche loro adesso ormai sono postmoderni sanno benissimo che sono fole però sarebbero gli storici anzi i leggendari fondatori nel XV-XVI secolo di questi tre filoni Sicilia mafia classica andrangheta andrangheta in Calabria e camorra per la campagna perché questi erano tre fratelli avevano fatto giustizia da sé una sorella insomma violentata da un signorotto e a Favignana dove c'era il carcere più atroce del mondo nella loro prigionia si inventano le regole cavalleresche di queste tre però in realtà poi sono dei mostri effettivamente nel film sono proprio dei mostri e diventano i nostri come paragonati Michael Myers Jason Boris allora qui la violenza diventa anche qui voi siete stati molto astuti in un certo senso perché gli italiani mafia mandolino è posta asciutta e quindi sì facciamo un horror sulla mafia da dove viene questa idea come nasce questa che secondo me io spero che poi continui perché questi mostri potrebbero ecco Milo dai raccontaci qualcosa di questa idea allora io sono un fissato con il folklore in generale ho fatto studi antropologici nella mia vita lavoro anche facendo nel mio piccolo un po' di ricerca nel campo e mi piace tantissimo e la leggenda di Osso Mastro Secre Canioso la conoscevo per via di questo libro che mi sono sapientemente preparato ecco e noi abbiamo chiesto addirittura ah no ok consulenza a Enzo Ciconte Enzo Ciconte ha curato questo libro e ha raccontato la leggenda di Osso Mastro Secre Canioso che io non vorrei parlarne troppo perché una delle cose che mi piace di più di quello che sta accadendo e sto vedendo soprattutto all'estero è come si stiano interessando a questa leggenda e la stiamo andando a cercare a recuperare e a scoprire quindi non voglio entrare nei dettagli di raccontare la storia che già hai raccontato tu che si trova facilmente su Wikipedia però quello che voglio dire è che è un caos questa storia perché è legata all'esoterismo è legata alla religione alla religione cattolica in maniera profondissima naturalmente in una visione profondamente distorta senz'altro però è legata ai simbolismi e alla stessa leggenda a due o tre versioni che discordano sui avvenimenti ce n'è una secondo la quale loro andarono a Favignana fuggendo c'è un'altra perché dice invece che loro furono confinati là e incarcerati cioè secondo la prima leggenda loro furono dopo incarcerati comunque cioè ho letto veramente qualunque cosa al riguardo e la cosa però veramente inquietante è che in alcuni battesimi mafiosi sono stati citati in tempi piuttosto recenti fanno parte ancora di quella iterazione mafiosa attraverso la quale c'è l'iniziazione per esempio dei picciotti ed è una roba cioè spaventosissima che tu senti osso mastosso e carcagnosso che fanno parte di una eredità che è andata anche perduta secondo me da quello che ho potuto leggere dalle intercettazioni dagli studi fatti nel merito è andata perduta dagli stessi mafiosi cioè io non so se anche loro hanno veramente idea di chi cavolo fossero questi poi naturalmente come tutte le leggende questo qua è proprio quasi un mito di fondazione è quasi un mito di fondazione di tutta la criminalità organizzata italiana perché parliamo di Mbrangheta parliamo di mafia cosa nostra parliamo di Camorra è come se si dicesse che è un unico albero che ha avuto tre diramazioni principali tre rami principali e la cosa veramente inquietante però è il fatto che loro continuano a vivere in qualche modo nelle parole di queste persone continuano a vivere non si sa in maniera fino a che punto in maniera consapevole e io credo che sia meraviglioso andare a pescare una roba che non moltissime persone conoscono nemmeno in Italia tra l'altro e questo l'abbiamo visto chiedendo ad amici a conoscenti molti non lo conoscono Roberto Saviano ha fatto una bella opera di divulgazione in questo caso cioè ha parlato proprio spiegando chi sono perché poi è una leggenda molto facile sembra quasi una favola sembra quasi una favola per bambine infatti il lavoro che noi abbiamo fatto è stato questo trattarla come favola cioè noi abbiamo praticamente utilizzato le filastrocche tutto poi quello che è anche il repertorio del cliché horror che fa paura obiettivamente però l'abbiamo fatto per brutalizzare questa leggenda perché un aspetto importantissimo che secondo me è da segnalare è come il folklore in questo film da alcuni sia stato visto anche negativamente cioè molte persone hanno per esempio iniziato a dire eh ma voi utilizzate il folklore e quindi fate una brutta pubblicità a quello che è il nostro paese però il folklore è purtroppo sì no 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 ma è successo se hai visto la conferenza stampa sai a cosa mi sto riferendo ma sono opinioni che sono per quanto opinabili legittime però l'aspetto che io trovo veramente affascinante è la questione che nessuno si sia mai fermato a riflettere su cosa sia il folklore in generale perché il folklore in generale non so se mi è permesso un eloquio appropriato per definirlo posso permettermelo vadi vadi il folklore nasce dalla merda dal vomito e dalle bestemmie e questo non l'ho detto io non l'ho detto io questo lo dice lo dice chi ha studiato folklore in maniera approfondita e seria il folklore nasce dalla pancia e nasce da dallo schifo e molto spesso molto spesso e il folklore non è una roba seria questa è una cosa che io ci tengo molto a dire è una roba che si prende in giro da sola e noi abbiamo preso in giro il folklore come lui sarebbe felice cioè gli abbiamo preso onore ma poi già solo i nomi sono buffi osso mastrosso e carcagnosso sono chiaramente dei nomi nati anche per far ridere però mentre ne parlavi a me poi un brividino lungo la schiena mi è venuto lo stesso perché le cose che fanno ridere perché quando tu unisci secondo me l'ironia cioè la risata al terrore ottiene un effetto che è veramente spaventoso infatti assolutamente i rimandi a diversi film sono stati anche questi pensati a tavolini o sono venuti fuori perché tanto appunto c'è il classico spettatore ipercritico che dice questo l'hanno copiato da lì questo l'hanno copiato da là questo l'hanno allora rispondiamo quelli che hanno scritto la storia vi rispondono ufficialmente è voluto oppure semplicemente c'è questo grande calderone da cui poi tutti attingono inconsciamente allora partiamo dal soggetto di Rob quello che mi ha consegnato nel 2013 e lì c'erano dei riferimenti molto forti a non aprite quella porta la casa questi due sono i film che più mi vengono in mente quella casa nel bosco anche era un film che ci ha fatto la template quando poi abbiamo scritto la sceneggiatura sia con Roberto e David prima e poi con Paolo e Milo noi abbiamo fatto un lavoro scena per scena battuta per battuta di trovare le occasioni per inserire dei riferimenti quindi è stata non è stata una scelta a tavolino ma è stata in un certo senso dettata o comunque condizionata dalla drammaturgia della storia quindi a un certo punto il citazionismo è stato proprio pensato è stato concepito come elemento narrativo lo volevano fortemente Paolo e Rob il citazionismo lo volevano fortemente nel film e quindi abbiamo fatto una lunghissima revisione di sceneggiatura cercando proprio in tutte le battute in tutte le scene le occasioni per inserire questo quel riferimento a questo adesso siccome non mi piacciono le interviste in ginocchio vi dirò qual è il momento citazionista che invece a me non è piaciuto tanto ok c'è un momento nel film in cui si sente un'eco tarantiniana pulp alla tarantino esplicita ok allora spoiler c'è una fucilata un colpo di fucile e la vittima che viene proprio catapultata come se fosse risucchiata dal motore di un boeing 747 così no all'indietro e lì una schitarrata mi pare proprio alla tarantino lì secondo me vi siete giocati proprio avete giocato al massimo della avete messo molto a repentaglia un po' anche la mia lo stare al gioco ok perché eh ma come ma anche tarantino e allora ci mettiamo proprio tutto questo per dirvi che appunto volevo fare volevo sembrare quello che ha amato alla foglia questo mi ha portato un po' fuori però è coerente proprio con che cosa invece con una dichiarazione di intenti che è quella degli autori che qui mi sembrano molto agguerriti tutti tutti voi tutti insieme per dire noi vogliamo fare questo tipo di cinema noi vogliamo farlo con questo stile con queste modalità e non ci dovete rompere le scatole c'è questa rabbia dentro il film sì questa rivendicazione penso di poter parlare a nome di tutto il gruppo sì non abbiamo voglia di essere educati in questo momento non sì no no è che sono totalmente d'accordo con te Lucio ma questo però è un discorso che io vorrei ampliare non ha soltanto a che fare con l'horror ha a che fare col genere tutto col genere intendiamo io parlo per esempio anche per me per la fantascienza parlo ma cioè la possibilità di fare qualcosa di diverso che non è vero che non esiste in Italia però è estremamente ridotta e invece bisognerebbe ampliarla infatti una cosa a cui tiene tantissimo Roberto che noi condividiamo tantissimo è la possibilità che forse questo film potrà dare anche ad altre persone di presentarsi a Netflix o altri players e dire proviamo a fare questa roba qua vi sapete io di recente ho visto un film italiano bellissimo si chiama Aspromonte è ambientato lì nell'Aspromonte e racconta di come questa comunità di contadini ma veramente ridotti in miseria siano stati forzati a un certo punto negli anni 50 a trasferirsi a lasciare i loro paesi arroccati sulle montagne insomma dell'interno e a vivere nelle cosiddette zone nelle marine cioè i paesi sono diventati hanno cambiato nome perché è stato aggiunto marina alla fine del nome c'è stato un momento in cui proprio l'urbanizzazione dell'Italia ha detto ai ai contadini a chi viveva nel di un'agricoltura anche un po' stentata basta questo stile di vita è orribile voi cafoni siete terrificanti siete orribili fate paura quindi dovete urbanizzarvi dovete civilizzarvi cafone da probabilmente cavare in latino cioè scavare proprio la terra ok c'è questo sentimento nel folk horror di paura proprio di chi invece ha ancora le radici nel nell'entroterra nei boschi di chi vive di agricoltura di chi ha radici antiche e secondo me un po' si evince nel vostro film questo sentimento di paura che è tipico del folk horror verso le tradizioni antiche verso chi vive non ancora nelle grandi città quella tavolata spoiler quella tavolata di mangioni calabresi che sono io tra poco andrò anche in Calabria io ci vado quasi praticamente tutti gli anni quindi conosco e apprezzo molto la Calabria quella sensazione proprio di di persone che vivono in un'altra dimensione lontana dal caos lontana dal disordine urbano ma anche però a contatto con delle paure più ataviche con delle sensazioni più ataviche secondo me c'è molto ecco allora Aspromonte celebra liricamente questa perdita nel vostro film capisco quindi che qualcuno tipo una giornalista possa dire che faccia brutta cattiva pubblicità alla Calabria no? perché vorrei la vostra opinione su che cosa ci fa paura in queste antiche tradizioni e voi avete lavorato proprio su questo avete portato in superficie questa schiuma ribollente di terrori atavici che ci legano che ci tengono lontano da certe realtà qual è questa realtà che ci fa veramente paura del passato? secondo me allora io do la mia risposta poi la lascio dare a Milo quello che a me ha convinto quando Milo portò sul tavolo Osso Mastrosse Carcagnosso quello che mi convince è che erano a me suscitava una paura che è fondamentalmente la paura degli gnoti di qualcosa che non appartiene che non è simile al nostro presente che anzi in qualche maniera precedeva il nostro presente in quelle che noi percepiamo essere epoche più oscure essere epoche più ostili di questa mi ha dato una sensazione uso un termine probabilmente abusato Lofcraftiana ecco quello che portò sul tavolo Milo a proposito di Osso Mastrosse Carcagnosso questo è il senso di paura su cui ho lavorato ho contribuito alla lavorazione di questa leggenda insieme ai ragazzi insomma è la paura dell'ignoto per me la paura dell'alieno del diverso che è anche riflessa nella paura dei boschi i boschi sono un tema molto importante in questo libro e in questo film scusate no io invece vorrei parlare più che di paura di rigetto perché c'è una cosa importantissima da dire che noi ci vergogniamo secondo me di tanti aspetti della nostra cultura ma questa è una cosa che ha a che fare proprio con un'eredità che abbiamo appreso dagli studi per esempio che sono legati al folklore noi adesso parliamo spesso di folk horror però bisognerebbe concentrarsi su che cos'è il folk innanzitutto apro una brevissima parentesi che però secondo me è illuminante il primo che ha studiato in maniera diciamo significativa al folklore dando una dignità a questo nome è stata una persona che voleva distruggere il folklore ed era Antonio Gramsci Antonio Gramsci politico che si è occupato nella vita di tutt'altro però si è occupato soprattutto nei quaderni del carcere di folklore e lui diceva dobbiamo liberarcene perché è la cosa che lega le classi subalterne alla loro condizione e non potrà mai farla sorgere verso quelle dominanti Ernesto De Martino che è stato il più grande antropologo italiano che abbiamo avuto probabilmente quando scrive il pianto rituale che è un'opera manifesto cioè meravigliosa lui dice io spero che le donne della Lucania che ho studiato riescano a emanciparsi e ad abbandonare le loro tradizioni io mi auguro che tutto questo vada perduto e questa è una cosa cioè lui lo dice in qualche modo e quindi io quando rifletto su quello che noi abbiamo fatto e vedo anche queste operazioni queste opinioni di persone che sono infastidite e è la cosa che ci fa paura anche a noi pensare a un passato arcaico secondo me è anche perché noi lo vediamo in una chiave profondamente politica il folclore cioè una lettura profondamente politica perché il folclore è quello che ci fa stare in una condizione subalterna rispetto al mondo civilizzato e quindi insomma è una paura profondamente politica questa è anche la paura quindi di questo mondo incivile che invece si ribella prende dei cittadini della contemporaneità e ne fa carne da macello siamo noi penso che un altro fonte di paura è che fondamentalmente queste persone così diverse da noi alla fine ci somigliano perché rispondono a un sistema che risponde a delle regole non troppo diverse da nostre che ha lo stesso grado di cinismo che è animato dalle stesse pulsioni dalle stesse pulsioni che si sono meno nascoste alla fine queste persone fanno quello che fanno perché hanno fame sì questo è spaventoso infatti la tavolata si mangia spoiler si dice proprio ti dobbiamo sacrificare io ti sacrifico per la mia gente per mantenerli in vita e questa è proprio la dimensione sì atavica tra l'altro la questione del cibo è molto interessante perché in tutta la prima parte del film nessuno mangia ed è una cosa che molti amici che hanno visto questo film mi hanno detto mi è piaciuto il fatto che non mangiano mi hanno detto alcuni e io mi sono cioè è una cosa su cui abbiamo riflettuto ma non è che abbiamo riflettuto poi tanto effettivamente quando tu vedi le dinamiche dei film horror e questi non mangiano mai cioè anche quando si trovano in delle situazioni assurde non vanno dietro un angolo a pisciare non fanno quello che fanno le persone normali noi a un certo punto dal terzo atto del film facciamo sentire la puzza del pecorino allo spettatore gli diciamo attenzione sei su questo pianeta sei in mezzo a noi e sei fatto di carne e ossa ed è questo che fa una paura dannata secondo me sono d'accordo effettivamente nel terzo atto quando si inizia proprio a sentire il profumo anche della terra riarsa sotto il sole della Calabria quella sensazione proprio di entrare in un mondo che si è a metà e chiaramente contemporaneo però lì cioè io anche quando vado lì la mia suocera insomma lì si parla di aletto lì lì c'è gente che mi parla io non capisco niente niente ok e quindi sì mi sembra che quando noi entriamo nel merito delle tradizioni davvero allora lì scuotiamo un po' gli animi per fare un altro esempio ci possono i vichinghi ci piacciono tanto sono molto fantasy poi però se anche loro andiamo lì a raccontare che facevano i sacrifici umani ci piacciono già un po' meno sono un po' meno eroici no? questa è un po' la sensazione c'è una frase che mi sono segnato sulla memoria culturale che dice la memoria culturale che prende che cos'è questo folk horror è la memoria culturale che prende a saltellare da una frequenza all'altra come una trasmittente impazzita mi piace tantissimo non so se è vero ma mi piace io volevo posso aggiungere una cosa al volo che c'è una cosa che mi disse una volta uno sceneggiatore molto in gamba che si chiama Luca Ventrusco che ha sceneggiato anche Boris che io mi portò nel cuore e lui disse questo che se tu vedi se lo spettatore italiano vede un film americano al cinema e vede che c'è un incidente stradale dice wow che figata se lo spettatore italiano al cinema vede che in un film italiano c'è un incidente stradale e dice oddio all'assicurazione e questa roba questa roba è estremamente pertinente rispetto agli scorsi che stiamo facendo sì la cosa che voi avete fatto secondo voi è vero voi avete fatto questo avete unito il folk con il pop che sono due lati della medaglia secondo me sì questo è così io la vedo la vedo così e questa è la cosa interessante è pop perché è su Netflix perché è moderno perché è un meta cinema però è folk perché siete andati a scavare dove la terra è ancora nera è scura e ci sono verdi ma comunque il folk il folk dovrebbe essere la cosa più pop del mondo questa è l'assurdità c'è una coincidenza tra due cose comunque eh sì però chi è pop è otaku chi è folk non sa neanche cosa voglia dire otaku è da lì che c'è il cortocircuito secondo me vabbè io mi metto a disservare questa è un'intervista dove poi io in realtà come vedete mi metto a conversare con voi perché mi piace che altro vi posso chiedere i boschi a me interessano molto i boschi anche perché ho scritto un romanzo dove i boschi sono fondamentali i boschi fanno paura c'è tutta una tradizione di cinema che ti spaventa con i boschi di recente parliamo cioè Lorenzo Bianchini ha parlando di horror italiani una produzione molto più insomma che non ha avuto le vostre grosse possibilità ma Across the River cioè Oltre il Guado fa paura è un bel film che fa paura non l'ho visto Carlo Lavagna che ha tradotto è il regista di Shadows questa è una produzione non è italiana credo comunque in Shadows anche ci sono queste due ragazze che sono vivono nei boschi con una madre che spiega loro che il mondo è finito devono stare nascosti nei boschi anche lì quando poi cercano di scappare troveranno indizi come automobili abbandonate guarda caso allora questo bosco è proprio mi sembra il richiamo a qualcosa che noi abbiamo perso completamente che ci fa paura come la funzione narrativa dei boschi in questo in questo film qual è per come l'ho vista io quando ho messo il soggetto di Roberto i boschi c'erano sempre stati i boschi per me servono a delimitare una zona che non è a contatto con il mondo reale per tornare dalla zona in cui sono finiti io la chiamo zona perché vabbè ma in questa in questa bolla in cui sono finiti i protagonisti del classico horror story per andare da questa bolla al mondo reale devi passare per il bosco e il bosco è un labirinto e il bosco non si comporta con delle con delle leggi spazio-temporali non sembra comportarsi con le leggi spazio-temporali comuni per me il bosco è un po' proprio narrativamente simbolicamente è il posto dove le leggi di realtà iniziano a rammollirsi e a disintegrarsi perché il bosco ha questa potenza simbolica che ha sempre avuto fino ai poemi cavallereschi in realtà fino ai poemi cavallereschi quando il cavaliere perdeva se stesso o attraversava un periodo di perdizione della propria virtù finiva in un bosco perché? bisognerebbe chiedere all'antropologo perché? probabilmente lui ne sa più di me sulle origini del simbolo però per me i boschi hanno quel ma noi in quanto specie veniamo dai boschi no? non vivevamo mica tutti nelle praterie i boschi sono il luogo forse più ospitale per un uomo nudo in cerca di cibo o sbaglio? probabilmente sì ma forse questo naturalmente è un mio pensiero che faccio sono un po' a disagio di farlo con un antropologo presente ma i boschi sono l'esatto opposto della civiltà in cui viviamo sono un sistema che si autoalimenta un sistema autoportante che ha un suo ha delle sue regole che le tribù del passato riuscivano a rispettare noi no assolutamente forse è in questo contrasto è in questa differenza è in questo senso di appartenenza che poi abbiamo perso che noi abbiamo paura del bosco oggi non lo so mi viene in mente anche The Village di quello impronunciabile Shyamalan e anche lì se tu vuoi concentrare una comunità e isolarla dal mondo il bosco è perfetto ma forse anche perché il bosco disintegra quell'illusione di sicurezza quell'illusione di conforto che crea la società in cui viviamo cioè nei boschi sei veramente come dire sei veramente in balia di un sistema più grande di te riconosci la tua la tua relativa piccolezza nei confronti di quello che hai attorno sì però sono sono solo pensieri di libertà questi non ho una non so perché il bosco sia così un altro simbolo forte nella vostra sceneggiatura è il mare alla fine l'acqua come annegamento come ma anche come il liquido omniotico la donna tiene una mano sul pancione l'acqua anche questo mi sembra non è non è non è casuale ecco come questo finale come ci avete lavorato cosa l'acqua ha un valore quasi semiotico si può dire cioè nel senso è catarsi il mare è catarsi in qualche modo è il luogo da cui siamo venuti è il luogo in qualche modo in cui lei torna alla fine il riferimento che hai fatto tu al liquido omniotico è profondamente calzante ed è il mare in generale è la catarsi è la catarsi ed è la libertà prendere il mare salpare è una cosa che per esempio da alcuni è stata compresa da altri come giusto e naturale che sia è che alcuni vedevano la scelta dell'interruzione di gravidanza finale possibile della protagonista come una campagna pro antiaborto cioè chiunque ci ha letto anche questa roba è normale è normale però narrativamente il personaggio al primo atto dice io cioè a seconda tutto quello che le dice la madre è schiacciata da quello che le dice la madre durante il film affrontando diversi ostacoli del caso nel secondo atto compirà un arco di trasformazione che la porterà indipendentemente poi dall'esito della scelta ad agire con la propria testa e quella è la libertà e quello è il mare perfetto e questo è la faccia di chi pensa che non ci sia un pensiero profondo dietro ogni ogni singola inquadratura ogni singola scelta diegetica narrativa e infatti secondo me il vostro film è incredibilmente stratificato ed è io penso che sia questo uno dei motivi per cui all'interno del piacere ma attira attira perché ci sono diversi come in ogni opera interessante diversi livelli si può vivere come un semplice classico horror story oppure come un'esperienza un po' più complessa e penso che ecco gli sceneggiatori come come introducono questi elementi in un film del genere come vi siete come si lavora collettivamente a una storia vi telefonate litigate vi picchiate di persona come funziona picchiare di persona no perché lavoriamo a distanza non do per scontato che non succederebbe se lavorassimo tutti insieme in una stanza però allora in realtà visto che c'erano che eravamo in tanti attorno attorno a questo film non abbiamo avuto dei grossi scontri mi aspettavo mi aspettavo un carnaio francamente quando ci siamo messi in quattro a scriverlo e non siamo arrivati più in là dell'esasperazione l'uno verso l'altro ecco che è già una buona cosa poi è una cosa che funziona e io credo che la nostra squadra di scrittori abbia funzionato perché ciascuno aveva il suo ruolo per esempio Milo ha una cultura fortissima sui simboli lui ha studiato filosofia e antropologia quindi ha una cultura fortissima su quella fortissima eccessiva più forte della mia ecco io per esempio sono uno che invece ragiona a pancia e sono sono quello come dire il mio apporto dal film di solito era sapere qual era l'emozione che provocava quella determinata scena e cercare di far capire ai ragazzi quando magari le strade che prendevano le aggiunte che facevano alle varie scene potevano portarci lontani da quel sentimento però perdonami Lucio qua non puoi non puoi dire soltanto questo del contributo che hai dato perché devi devi darmi devi darmi modo di dire che in realtà cioè tu hai una grandissima padrona innanzitutto una grandissima cultura letteraria poi sei stato secondo me l'anima strutturalista di questa storia l'anima strutturalista è la prima volta che mi chiamano strutturalista mi sento investito di una responsabilità gigantesca no no però è una cosa di cui invece ti si deve dare assolutamente atto hai gestito secondo me lo scheletro narrativo più di chiunque altro ma perché perché sono io che l'ho costruito all'inizio nel senso che la prima stesura è mia quindi sapevo come funzionava al fin sapevo che quella struttura lì funzionava per Roberto e avevo avuto modo nei sette anni comunque che abbiamo messo a scriverlo su cui ci abbiamo lavorato di imparare di sapere cosa funzionava e cosa no lì dentro di sapere perché c'erano certi elementi perché funzionavano nella struttura quale fosse la loro funzione e quindi quando andavano rimpiazzati con cosa andassero rimpiazzati perché la struttura stesse in piedi questo questo è stato poi naturalmente ho portato delle idee come tutti però il film è veramente un sandwich di idee di tutto il mondo è difficilissimo dire chi ha portato qui quindi e poi volevo dire una cosa antiretorica lavorare con due registi è faticosissimo è faticosissimo due registi insieme noi sceneggiatori siamo praticamente gli sparring partner pigliamo un sacco di botte e quando già ti confronti con un pugile è una roba ma con due è stato tosto bello bellissimo fantastico però bisogna dirlo perché è giusto è difficile assoluto beh io voglio chiudere vabbè allora siccome siamo parliamo da circa un'ora magari ci saranno altre occasioni ma insomma mi sembra se siete d'accordo mi sembra che abbiamo più o meno circondato un po' tutto il vostro film l'abbiamo assediato bene mi sorprende comunque che non mi hai chiesto niente sulla violenza grafica perché so che tu hai un punto debole su quella roba lì io un punto debole no ce n'era poca tutto lì poca poca violenza grafica no 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 credo che la violenza sia stata gestita se mi chiedi un parere assolutamente egregiamente nel senso che è più pensata che vista e quindi fa è ancora più atroce ma in più la può vedere anche mia madre perché l'orecchio quando mozzano cavano un occhio non le cade in grembo ecco capito è peggio perché poi sta male perché se lo immagina ma questa è anche un'altra secondo me una grande furbata però però ho apprezzato come Lucio sa che effettivamente rispetto a The Nest l'altro film su cui ha lavorato Lucio con Roberto De Feo c'è secondo me un approccio un po' più punk un po' più grezzo un po' più aggressivo dal punto di vista proprio della violenza grafica però sempre condotto con una grande eleganza sapienza per camera messa nel posto giusto sempre quindi cosa vuol dire ma queste sono le basi del mestiere e quindi le do per scontate perché questo è un film fatto da dei professionisti che si misurano a darmi pari a livello internazionale con tutti gli altri punto quindi non è che dobbiamo stare lì a dire l'avete fatto bene è ovvio per me è ovvio appunto e quindi sono davvero felice che ci esista questo film e che magari insomma inizia a far sfavillare gli occhi di quei produttori che finora hanno sempre pensato no no ma facciamo una commedia che sicuramente incastra e poi escono cose tipo il sequel dei tre moschetti vabbè lasciamo stare lasciamo stare poi ne parliamo di fatto non voglio non voglio dare addosso dei registi di grande esperienza che poverini vabbè lasciamo stare quindi questo è classico questi sono due sceneggiatori che hanno scritto i due sceneggiatori insieme ad altri che hanno scritto quest'opera che sta facendo parlare di sé tutto nasce sempre dalla parola scritta ricordiamo questo non è morta la parola scritta è dappertutto è dietro tutto quello che amate è dietro tutto quello che guardate che ascoltate che pensate c'è sempre qualcuno che ha una penna in mano o è seduto davanti a una macchina per scrivere o un computer e sta inanellando una lettera dietro l'altra una parola dietro l'altra una parola una frase dopo l'altra e voi alla fine vi guardate questo filmone che nasce dalla pagina bianca centinaia di sceneggiatori che stanno guardando questo video e stanno piangendo davanti al loro computer lode a gli sceneggiatori perché semplicemente sono degli scrittori prestati a voi pubblico a questo per portarvi delle immagini perché voi siete pigri e non leggete il libro ecco l'aspettiamo ragazzi complimenti la porta di broken stories è sempre aperta per voi continuate continuate grazie grazie mille ciao a tutti ciao